Poi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al diciottesimo la Salernitana è passata. La Salernitana ha concretizzato infine la sua superiorità. È toccato a Pisano andare a segno per il tripudio genero sul calcio d'angolo, siglando così il suo primo gol in Granata. Quindi la rete Pistella, che non ha evitato però le contestazioni dei tifosi accesi. Ma sentiamo Mario Lemme.